ben trovati cari amici di padre pio tv in questo nostro spazio dedicato a possiamo dire ai bambini e ormai da circa 30 anni forse più di 30 anni che c'è un sacerdote che dà voce a chi non ha voce andiamo virtualmente in brasile anche se restiamo proprio qui a san giovanni rotondo perché padre renato chi era è proprio qui nei nostri studi grazie per la sua disponibilità grazie a voi e direi grazie a padre pio mio papà era venuto a confessarsi con padre pio è la prima volta che io vengo qua e mi sento in casa subito anche accolto bene da voi e sono felice di portare qualcosa della tragicità ma anche della speranza del brasile che viene dalle periferie io sono in periferia la grande periferia del brasile di rio di sanero poi di fortalesa perché siamo in vari posti accanto ai figli del brasile non amati così chiama il venito di rua padre renato quasi 50 anni di messa io 50 anni adesso il 29 di giugno ecco faccio 75 di vita le facciamo tanti cari auguri voglio fare l'anno sabbatico ma a pezzi e le ha partito subito da dalla sua famiglia perché ha ricordato questo episodio di padre pio ma come è nata la sua vocazione ecco grazie perché in questo momento presento il mio papà ecco che è venuto qua di a ripeto e che era entusiasta che cosa raccontava di padre pio e beh lui si era confessato mi raccontava la sua figura rigida e ma buona era buono un uomo di principi mi diceva ma buono soprattutto quando lui è andato a confessarsi comunque mio papà mi ha marcato mi ha segnato dall'infanzia io sono figlio di contadini lui era un contadino siamo una famiglia di otto fratelli o quattro e quattro una famiglia grande io li ho bevuto con papà i valori cristiani tradizionali ma valori e soprattutto il valore della solidarietà noi eravamo poveri ma non tanto poveri da non poter condividere niente mio papà per dire imprestava delle mucche quando c'era una famiglia povera che non aveva da dare il latte lui imprestava una mucca diceva rimanete con la mucca quando non avete più bisogno me lo date e lui accoglieva già noi siamo in piemonte c'era molta neve durante l'inverno rigido accoglieva già dei barboni io mi ricordo ero ragazzino li mettevano nella stalla un giorno uno di loro è morto di polmonite sono venuti i carabinieri noi eravamo tutti preoccupati noi ragazzino cosa abbiamo fatto cosa è successo i carabinieri e papà dice non abbiate paura noi non l'abbiamo ucciso l'abbiamo accolto per amore e lui è morto per malattia una polmonite fulminante io ho bevuto questa realtà di solidarietà e io sentivo da bambino che volevo essere prete ma perché perché volevo vivere per gli altri non sapevo bene cosa fosse bene essere preti perché non sapevo il seminario non sapevo tutto questo quando avevo otto anni in scuola adesso ripensando al filo d'oro di dio nella mia vita io ero nell'elementare leggevano la storia di don bosco giovannino bosco e io ero entusiasta ma proprio bevevo dicevo vorrei essere come lui aiutare i ragazzi ragazzi abbandonati ma io non conoscevo questa realtà di ragazzi abbandonati però ce l'avevo nel cuore la maestra un giorno dice qualcuno vorrebbe essere come don bosco gli alzo la mano senza sapere ecco c'è una chiamata no che dio poi la semente che poi realizza il sogno e così poi io andavo al pascolo delle mucche mi ricordo portavo portavo un pezzo di pane e una mela con le mucche e vedevo sfrecciare nel cielo degli aerei che facevano dei ponti e io sognavo io vorrei costruire dei ponti tra un orizzonte all'altro pensandoci adesso vedo che sono realizzazioni di sogni che avevo nell'infanzia che poi la vocazione e allora sono andato in seminario ho vissuto il preconcilio il concilio il dopo concilio quindi ho vissuto dei momenti molto forti di sofferenza di speranza io direi di parto perché nasceva una chiesa nuova una nuova visione e io vibravo per tutte queste cose mi sentivo stretto in una chiesa chiusa una chiesa tradizionale mi sono sempre sentito molto stretto perché sentivo che il vangelo era un'altra cosa aveva una forza prorompente di gioia di realizzazione e il seminario ho sofferto però ho imparato tante cose sono diventato prete ma io è inquieto ecco un inquietudine che penso che sia buona perché l'inquieto non si ferma l'inquieto non è soddisfatto e allora vuoi sempre oltre io volevo sempre di più a certe volte anche una forza una forma non tanto delicata qualche volta comunque ho fatto filosofia dopo essere prete il vescovo lo voleva perché voleva che io evangelizzasse gli studenti che facevano filosofia atea no perché si passava molto l'ateismo attraverso la filosofia quindi il mio vescovo mi aveva detto magari se tu a te piace lavorare con i giovani tu potresti fare questo e così ho fatto fatto scuola ho fatto filosofia e poi ho vinto la catena di filosofia ma io cercavo famiglia come prete io non mi sentivo bene solo io volevo la famiglia dicevo ma io sono venuto una bella famiglia perché non posso avere famiglia e non sapevo bene come trovare questo attraverso il movimento di fogolari chiara lubic e ho partecipato di un incontro di un sei mesi in roma grotta ferrata e lì ho fatto l'esperienza che il prete poteva avere famiglia che erano la famiglia dei preti di tutto il mondo eravamo facevamo dei piccoli nuclei dove ci condividevamo la nostra vita dicevamo la nostra come abbiamo vissuto il vangelo ogni giorno i problemi che avevamo facciamo una comunione di anima e questo mi piaceva moltissimo lì mi viene il vescovo io avevo vinto la carta di filosofia dovevo ritornare per andare a scuola far scuola di filosofia perché prima facevo scuola di religione e il vescovo mi tratta bene mi dice ma Renato tu andresti mica in Brasile io dico in Brasile sì perché abbiamo dei preti lafi dei doni nostri preti della diocese di Mondovì adesso due sono diventati ammalati io ce ne sono più uno non lo lascio io dico ma dovrei andare adesso mi dice no vai ancora a casa vai ancora a casa perché io ero parruca anche vai ancora a casa lo dice le parrucchiane la tua famiglia mia mamma era ancora viva i miei fratelli e io ho detto subito sì ma non so perché poi magari sono stato un pochettino più inquieto perché adesso cosa faccio io non conosco niente di Brasile dove vado non so parlare però ho sentito una pace come se ecco c'era una risposta il vescovo mi esprimeva una cosa che io avevo nel cuore per quello che ero inquieto no volevo mi sono ricordato dei 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 ponte tutte queste cose no e così sono arrivato in Brasile senza sapere cosa fosse il Brasile me lo pensavo molto differente sono arrivato a Rio de Janeiro primo impatto arrivo alla sera non siamo arrivati al mattino alla sera sono andato a trovare questo sacerdote mio amico e non volevano che ritornasse a casa era sera ma perché è pericoloso il primo impatto è che passo vicino un pulma mi ricordo ancora Don Gianni mi dice Renato se succede qualcosa non spaventarti e vedo un pulman fermo due morti assassinati c'era stato un assalto il giorno dopo tre assassinati mentre andavo in una comunità allora ho detto qui sono in un mondo molto terribile e allora sono entrato subito in questa periferia la grande periferia di Rio chiamata Baixada Fluminense bassa del fiume la Baixada che è un'area sterminata a continuazione di Rio de Janeiro Rio de Janeiro non conteneva più le persone che venivano da tutto il Brasile l'esodo rurale l'entrata nella città l'industrializzazione arrivare a realizzare sogni gente povera diciamo in città ecco e lì hanno trovato che cosa? La disperazione senza casa senza lavoro quindi un mondo di sofferenza anche di molta violenza perché la violenza è l'espressione di una sofferenza di un disagio che c'è ma io mi sono sentito subito bene lì mi sono buttato nelle periferie le periferie e Papa Francesco non aveva ancora parlato di periferie ma io ce l'avevo già nel cuore periferie geografiche e esistenziali io andavo dove c'era il più brutto dove c'erano i più poveri dove c'erano quelli che nessuno voleva mi sentivo attratto perché ho capito che lì era Gesù quel che hai fatto all'altro hai fatto a me e ho capito che lì era Gesù in croce perché mi hai abbandonato Dio mio e sentivo un popolo abbandonato non amato e lì ho lavorato molto come missionario io avevo un camioncino avevo messo una cornetta sopra un altoparlante e io andavo e dicevo io sono padre Renato sono un prete cattolico qui ci sono dei cattolici che siete venuti da tante parti non sapete se non c'erano preti quasi non c'erano allora se volete ci troviamo allora troviamo una strada io facevo la missione di strada andavamo in una casa la gente si incontrava mi dicevo ma che bello io facevo il primo annuncio diciamo e dicono che bello ma noi vorremmo trovarci ancora dico ma non ci sono chiese abbiamo costruito 19 chiese 19 comunità perché loro dicevano sì ma noi andiamo a vedere adesso se c'è il terreno sono stati tempi bellissimi poi Dio aveva dei piani io Don Bosco volevo essere come Don Bosco ma io lo sapevo poi ho dimenticato tutto che succede che ero in parrocchia Santa Rita Santa Rita di Cassia e in questa parrocchia mi trovavo molto bene una sera arrivo a casa e vedo nel garage grazie di così nel garage e vedo una sagoma un giovane nero e io ho detto ho subito pensato fosse un assalto ho detto magari vuoi la macchina e gli do la macchina per non dargli la vita e lui mi dice padre Renato sono io sono pirata la polizia sta dietro di me mi hanno sparato li vogliono uccidere e una pallota mi ha preso qui di fatti sanguinava e io ho guardato dietro c'era proprio la polizia c'era la macchina della polizia che si è fermata e mi hanno visto se sono non sono entrati allora io ho visto che era pericolo vero che lo volevano uccidere proprio allora ho chiuso il garage e ho tenuto pirata Carlos Marcins ero il primo ragazzo di strada siamo negli anni 83 quando nasceva questa tragica realtà dei ragazzi figli di un progresso che non li ha adottati i ragazzi chiamati di strada e allora io sono rimasto con lui ma pensavo solo di curarlo e poi che lui ritornasse Carlos Marcins era orfano i genitori sono morti di lebra mi ricordo bene non aveva nessuno viveva in strada rubando ha cominciato a drogarsi per per ammazzare la fame che aveva dentro di amore e per consolarsi anche e lui è rimasto con me e non andava più via e mi diceva padre io mi trovo bene con te perché mi sento amato non mi sono mai sentito figlio come con te e questo mi ha fatto molta impressione poi lui stava già lì con me ha voluto ha fatto il battesimo la comunione e stava lavorando perché era un ragazzo di 17 anni ma era molto forte era analfabeto però ha studiato un pochettino con noi una sera arrivo in casa mi dicono hanno sparato a pirata era lì sul muretto è arrivato dal lavoro di casa tua lui abitava con me e ho visto il sangue per terra lui era già all'ospedale mi ha detto ho passato una macchina quattro individui squadroni della morte lo hanno beccato lui non ha voluto salire sulla macchina gli hanno sparato sono arrivato là era morto due tire nella testa e io pianto perché non ho potuto salvare mio figlio e dicevo ma allora abbiamo fatto la sepoltura ho detto ma io sono venuto in Brasile per seppellire o per salvare per dare vita come Gesù che è venuto perché tutte abbiano vita vita in abbondanza e questa roba mi ha fatto così male abbiamo fatto abbiamo fatto la sepoltura bella però io dicevo ma ecco seppeliamo ragazzi invece di salvarli e questa era una chietudine ma cosa fare? Pare Renato noi ci fermiamo qui ci racconterà ancora quello che è accaduto in questa zona del Brasile la sua vocazione che l'ha portata dall'Italia al Brasile cosa è successo e ci dobbiamo per forza di cose fermare appuntamento alla prossima